Un luogo straordinario per una mostra straordinaria. La Villa Medicia di Seravezza ospita fino al 6 novembre 2011 quasi tutta la produzione artistica di Caravaggio, bene a 61 opere del pittore Lombardo riprodotte in altissima definizione in scala 1 a 1, secondo un progetto realizzato dalla RAI che permette così di raccogliere in un unico ambiente opere disperse in realtà in collezioni private, chiese e musei di tutto il mondo. Un sogno a lungo coltivato da appassionati d'arte e studiosi che si concretizza in questa mostra impossibile di Caravaggio che porta l'arte alla conoscenza di tutti. Un progetto in linea con la missione di servizio pubblico della RAI. L'esposizione delle opere, che sono tutte a grandezza naturale, retroilluminate e di grande impatto visivo, è accompagnata da alcune installazioni audiovisive, film e documentari dedicate alla vita e all'opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Tre celebri opere, La fuga in Egitto, Il suonatore di Liuto e L'amore vincitore, sono accompagnate da suggestive musiche cinquecentesche. La Villa Medicea, fatta costruire da Cosimo I nel 1560, è attualmente di proprietà del Comune di Seravezza. Ed ospita la Biblioteca Comunale, il Museo del Lavoro e delle Tradizioni Popolari della Versilia, L'archivio storico e importanti mostri di arte moderna e contemporanea, secondo il principio di far vivere un complesso architettonico perfettamente integro, grazie anche alla sensibilità dell'amministrazione comunale. In questi anni abbiamo lavorato molto per il recupero di questo sito così importante per la nostra zona, per il nostro territorio, per la città di Seravezza. È un sito che da tanti anni è un polo di attrazione culturale, e negli ultimi anni ha ottenuto dei risultati notevolissimi e di grande soddisfazione. Il fatto di ospitare questa mostra immaginaria di Caravaggio è sicuramente un premio che ci arriva in più, perché vuol dire che la nostra capacità di organizzazione, di tenere il sito, di organizzare le cose, ha convinto gli organizzatori del Festival della Salute di organizzare la loro mostra presso di noi. Questa per noi è una bella soddisfazione, è un grande risultato, speriamo che anche i numeri dei visitatori che dovrebbero venire nelle prossime settimane ci diano ragione e soddisfazione. Chi visita la mostra può usufruire di un audio guida che lo accompagna attraverso le sale alla scoperta delle opere e della vita del grande pittore. Grazie a tutti.